Sono Massimo Boccucci del Corriere Sport, le chiedo se l'è più dispiaciuto l'impatto del risultato così pesante o la prospettiva dallo sconto diretto a Verona che è proiettato da questo risultato? Buonasera a tutti, ovviamente era un esordio che me lo sognavo in modo diverso, dall'altra parte abbiamo trovato una squadra forte, noi per 25 minuti fino a quando le distanze sono state giuste, abbiamo fatto secondo me una buona partita, ci prepariamo alla partita di Verona che per noi diventa una partita fondamentale per il nostro percorso, da domani cominceremo a lavorare cercando di tirare su di morale tutti i ragazzi perché poi sono loro che vanno in campo e da loro mi aspetto una reazione di orgoglio per la partita di domenica. Prego. Buonasera mister, Alessandro Capetto il numero 10, non è facile sicuramente parlare della partita di oggi, io però vorrei soffermarmi su una sua decisione di schierare racici titolare che non ha avuto un grande minutaggio in questa stagione e poi ha trovato anche il gol diciamo anche da fuori area che è escluso Brardi, una cosa che un po' è mancata quest'anno a Sassuolo, quindi volevo chiedere le motivazioni sulla scelta di Racic che poi ha dato comunque per la prima mezz'ora i suoi frutti, grazie. Ho fatto giocare Racic perché avevo la necessità di avere un filtro davanti alla difesa, un giocatore che allo stesso tempo avesse qualità tecniche per far ripartire l'azione cercando di sfruttare poi Matteus Enrique e Torsverde che sono bravi negli inserimenti e sono bravi negli ultimi 25 metri, quindi la motivazione è quella lì e Uros comunque è un giocatore che fa parte di una rosa importante come quella del Sassuolo ed è a mio avviso un giocatore che poteva darci una mano. Sì mister buonasera Antonini di Forza Sassuolo, come ha detto il collega non è facile commentare una partita del genere però volevo chiederle guardate anche un po' lei come gioca con la sua primavera, si è intravisto questa sera qualcosa di quello che lei cerca di proporre di quella che è la sua idea di calcio, comunque i reparti erano poco distanti tra di loro, la squadra è stata compatta, poi però quell'1-2 ha inciso più mentalmente o c'è stata una differenza sul tasso tecnico? Ma io penso che la differenza del tasso tecnico delle squadre ci sia, ci sono dall'altra parte dei giocatori, innanzitutto avevamo di fronte i campioni d'Italia, non dimentichiamocelo perché insomma il Napoli anche se magari in questo momento non ha una posizione altissima di classifica però sono i campioni d'Italia, hanno dei giocatori importanti. Noi fino a quando, ripeto, siamo riusciti a stare corti, bene abbiamo sopperito ad alcune situazioni di qualità, di alta qualità, di alto movimento tra le catene della squadra partenopea. Ho avuto poco tempo per lavorare, due giorni sono sinceramente troppo pochi però nella fase offensiva potevamo fare qualcosa in più, abbiamo commesso molti errori tecnici, la palla in questo momento pesa come un macigno e quindi dobbiamo trovare quella leggerezza e quella serenità che ci può portare fuori da questa situazione. Stiamo recuperando anche dei giocatori importanti e quindi per domenica sicuramente ci sarà un sassuolo al completo. Buonasera, Alessandro Mossini Radio Capital. Le chiedo a un certo punto, avevate preso sei gol e i falli fatti erano due, allora le faccio un ragionamento su quello che vi aspetta. C'è una squadra questa che ha poca percezione del pericolo e che forse anche nel quello che è il suo lavoro da qui a fine stagione va anche mentalizzato un po' sulla battaglia? Questo è un bel dato, è dei falli fatti due, è un bel dato, è un bel dato che fa riflettere però ti posso assicurare che io in questi due giorni in cui sono stato a contatto con i ragazzi, i ragazzi hanno dato grandissima disponibilità, grandissima voglia però probabilmente non basta. Dobbiamo fare tutti qualcosa in più, tutti dare in termini di carattere qualcosa in più però non troveremo sempre il Napoli davanti. Quindi recuperando anche certi giocatori probabilmente saremo al completo sicuramente una squadra più competitiva che però dovrà mettere ancora più orgoglio di quella che sta mettendo perché la situazione è complicata. Buonasera, ha esaltato spesso il Napoli in questa conferenza, il Campione d'Italia, la squadra forte l'ha fatto anche ieri. Guardandoli dal campo da avversario, ha i mezzi questa squadra per fare una rimonta per la zona Champions? Guardandoli dal campo mi hanno fatto una grandissima impressione. Io hanno cambiato allenatore, ovviamente il nuovo allenatore, piano piano anche lui, visto che ha fatto delle partite una dietro l'altra, cercherà di dare anche qualcosa di suo. Ha dei campioni, Osimene è ritornato dalla Coppa d'Africa quindi insomma è un giocatore importante. Io penso che abbia tutti i mezzi per poter risalire la corrente. Buonasera mister. Oggi ha concesso 4 minuti a Justin Cumi che aveva già comunque delle panchine in Serie A. È sembrata una passerella però noi sappiamo la considerazione che lei ha per questo ragazzo. Lo potremmo rivedere anche a Verona? Tu segui molto la Primavera e Justin è il capitano della squadra Primavera. Gli ho voluto fare questo regalo ma perché ci credo nel ragazzo, perché credo nel lavoro del settore giovanile perché credo che sia un premio a tutti quelli che lavorano per, scusate la ripetitività, per il settore giovanile del Sassuolo con a capo Francesco Palmieri che devo ringraziare insieme a tutto, ripeto, la famiglia Squinzi, il presidente Carlo Rossi, Giovanni Rossi che mi hanno dato, Giovanni Carnevali anche, che mi hanno dato questa possibilità e che mi ritengono uno di famiglia. Quindi è un premio per tutti quanti, l'esordio di Cumi. Ti chiedo Emiliano Paolo Sagheroni, Gazzetta di Modena, intanto insomma buona serata e ben trovato. ti chiedo gli errori individuali che sono una caratteristica di questa squadra, è inutile citarli ma insomma anche stasera qualche errore abbastanza incomprensibile se ti sei fatto un'idea anche di come intervenire e poi cosa ti ha chiesto la società, lo immaginiamo? Gli ho ringraziati poc'anzi alla società perché mi ritengono uno di famiglia, perché hanno molta stima per me come uomo e come allenatore, quindi per me questo è molto gratificante. Ci sono stati degli errori oggettivi individuali dove abbiamo preso tre gol, quindi senza questi errori probabilmente la partita sarebbe finita 3 a 1, avremmo perso uguale, però ripeto non mi focalizzerei troppo sul risultato, nel senso che potremmo perdere anche 1 a 0, 2 a 1, 3 a 1, perdere, ma adesso il nostro obiettivo è Verona e noi dobbiamo pensare che Verona è la prima di tante finali che ci aspettano da qui alla fine. No, sicuramente il ritiro lo facciamo il giorno prima della gara sempre, quindi non penso che andare in ritiro sia una buona soluzione. Poi dicevi di Berardi, Berardi l'ho portato in panchina oggi perché ieri nella partitella stava molto bene e mi garantiva uno spezzone di gara nel momento in cui ne avesse avuto bisogno, quindi sicuramente per Verona è disponibile. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti.